Eccoci qua, Salone 2018, un altro anno, come posso raccontare la pratica nel fare un mestiere come il mio? E mi piace molto l'idea di rimanere legato a questa parola mestiere. A me piace pensare al modello umanistico e mi piace pensare al modello legato quasi alla ricerca dell'umanesimo, quindi diverse specializzazioni, diverse specialità, diversi saperi, tutti quanti un po' mischiati assieme. Io credo che per un progettista lavorare per aziende diverse tra di loro, ma con intelligenze completamente diverse, nonostante tutto, sia un arricchimento incredibile tutti i giorni. Però la vecchia scuola, soprattutto la scuola milanese, ci ha insegnato a essere molto curiosi e nello stesso tempo ci ha insegnato a essere architetti capaci anche di disegnare degli oggetti più piccoli. In fin dei conti noi lavoriamo su delle interferenze e con delle interferenze lavoriamo ad esempio disegnando un edificio, poi cambiamo scala e disegniamo gli spazi che ci sono all'interno, poi cambiamo un'altra volta scala e disegniamo degli oggetti che ci stanno dentro. Ci sono interferenze costanti e continue. Però la bellezza non sta solamente in quello, la bellezza sta nello specializzarsi su alcune parti, su alcuni dettagli, nel lavorare assieme alle aziende, che questo credo sia fondamentale per poter fare design, imparare e nello stesso tempo scambiare informazioni. Secondo me iperspecializzarsi nel 2018 per quanto mi riguarda è un pochino riduttivo. Diciamo che preferisco perdere per strada alcune parti ma preferisco ricevere questa ricchezza culturale e per me è cultura. In fin dei conti nel 1500 parlavano della possibilità, per poter fare bene l'architetto, di essere diverse persone tutte assieme, dal poeta fino al falegname. Bene, togliendo la parte poetica, a me piace l'idea di essere un falegname o di essere un meccanico perché lavoro con cose meccaniche, mi piace l'idea di lavorare come un chimico perché è modello della plastica, mi piace l'idea di essere un falegname perché tocco degli elementi costruiti in legno. Se devo iperspecializzarmi io credo che sia un pochino noioso, preferisco stare un po' all'interno di tutti questi mondi. Ma io vorrei riportarmi indietro di un passo abbastanza recente in fin dei conti, dal Bauhaus fino agli inizi dell'epopea milanese, a me piace chiamarla così. In fin dei conti è stato possibile ragionare su un'idea legata a una misura, a una proporzione e la cosa che lega tutto quanto è sempre la proporzione degli esseri umani. Ogni volta che tocchiamo degli spazi o degli edifici sono comunque disegnati per contenere le proporzioni di un essere umano e quando disegniamo degli oggetti più piccoli portano ancora la stessa misura, quindi proporzioni legate all'essere umano. In più, adesso noi dobbiamo tenere conto di un'altra proporzione che è una proporzione di responsabilità. Ogni volta che interveniamo sulla natura, la trasformiamo e modifichiamo quello che ci sta intorno, dobbiamo essere incredibilmente responsabili. Infatti, da architetto mi piace pensare che i miei edifici dureranno più o meno lo spazio di una generazione. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe che sparissero, per quanto mi riguarda mi piacerebbe pensare che fra 25, al massimo fra 30 anni, qualcuno smantellerà quell'edificio e ne farà un altro. una proporzione precisa, questa capacità non solo di pensare in maniera eccessivamente egocentrica alla durata infinita delle cose, ma nello stesso tempo di dargli una durata di vita corretta, quindi questa proporzione. L'altra proporzione, che è sempre quella legata alla responsabilità, è quando lavoro come designer. In fin dei conti, un designer è completamente connesso con le aziende e la proporzione è una proporzione di responsabilità. Quando io disegno una cosa, un oggetto, non disegno per me stesso, ma disegno per un consenso molto complesso e molto complicato e mi devo prendere delle responsabilità. Ultimamente tutti quanti mi chiedono se disegno rispettando le regole della... chiamiamola della natura, quindi la possibilità di non inquinare inutilmente o di usare energie inutile o di usare materie in maniera eccessivamente generosa. Io credo che tutto questo sia all'interno, paradossalmente, del modello industriale. Ogni volta che un'industria fa un oggetto, grande o piccolo che sia, non è importante, ma mette un prodromo preciso la sua economicità e la sua durabilità. Nessuno di noi disegna per adesso, ma disegniamo per avere un minimo di tempo di vita e diamo a tutti questi oggetti un tempo di vita ragionevole. Questo io credo che sia uno dei nostri elementi del futuro, nel senso della responsabilità. E poi vediamo. Farei un passo laterale. Io credo che tra un'urna e un vaso da notte ci siano delle incredibili differenze. Non mi piace nemmeno però passare attraverso questa specie di griglia, potremmo dire di falsa ironia. Quando noi ragioniamo intorno alla nostra vita, forse l'ironia la dobbiamo mettere su altro, la dobbiamo mettere prima di tutto su noi stessi, dobbiamo prenderci un pochino in giro. Ma quando io ragiono in termini industriali, e in questo caso voglio essere rigorosamente un industrial designer, potendo l'ironia la lascio fuori dalla porta. Ma non perché voglio essere triste o noioso, semplicemente perché l'arte si può concedere la forza rivoluzionaria e aristocratica dell'ironia. Il mio è un mestiere, io faccio un lavoro, lavoro per aziende che a loro volta fanno dei mestieri. E lì hai poco da essere ironico, lì devi essere abbastanza serio. Poi se un oggetto ti esce con delle buone proporzioni o con delle proporzioni sbagliate che danno un tocco di leggerezza, questa è un'altra storia. Ma un vaso da notte, per quanto mi riguarda, rimane un vaso da notte. Poi lo decontestualizzo, lo metto all'interno di un museo e può probabilmente raccontarmi una storia diversa. E potrei anche sorridere. Per un'urna, devo dire che pensando all'uso che se ne fa, preferirei girare bellamente e abbondantemente alla larga. Onestamente preferisco disegnare una sedia, anche senza ironia. La bellezza dell'industrializzazione, se devo ragionare in questo momento, che non è una gabbia, ma è un pensiero, io credo che sia fondamentale. Ma nel 2018, e io voglio essere assolutamente contemporaneo, l'industrializzazione è un codice. Io devo produrre nel miglior modo possibile, con le migliori tecnologie, anche un pezzo unico. Che non vuol dire stampare con una stampante 3D in grande scala, ma vuol dire riflettere sui processi di produzione. Con la nuova generazione di intelligenza artificiale, con la nuova generazione di macchine, ma soprattutto con la nuova generazione di persone che si interfacciano e lavorano con questi oggetti tecnologici, noi siamo in grado di controllare, pezzo per pezzo, una qualità, secondo me, straordinaria. E la capacità è quella di interferire tra quello che fa una macchina e quello che il tocco umano mette. La capacità di un uomo, o di una donna, o di un essere umano, che riesce a toccare, che riesce a modificare, nello stesso tempo che fa costruire delle parti più o meno complesse da una macchina. Io credo che qui stia il segreto, il futuro, almeno per le aziende italiane, è di continuare a investire pesantemente sulla scientificità del proprio modello produttivo e contemporaneamente di investire sull'umanità dello stesso, quindi su questa capacità di un essere umano di essere non a disposizione della macchina, ma esattamente al contrario, macchine sempre più complesse che sono a disposizione di questa sensibilità e di questa conoscenza umana. Ma se devo essere sincero ogni volta che mi metto a lavorare per una, qualsiasi delle mie aziende, intanto ciascuna azienda è lei, quindi è unica, nel suo genere è unica, anche se magari fanno prodotti simili o quantomeno comparabili, ma ogni azienda, ogni luogo, ogni gruppo di persone è un gruppo di persone diverse. E di volta in volta il designer o l'architetto, o colui che, o colei che pensa di progettare un affare, di fatto si mette a disposizione all'interno di un team di lavoro. Ciascuna azienda ha una sua intelligenza e ciascun interprete si deve riallineare sull'intelligenza dell'azienda. Intelligenze produttive, intelligenze creative, intelligenze tecnologiche e via via. Noi siamo una parte di un team molto vasto, non necessariamente gigantesco, ma un team molto vasto. Quindi è una specie di parco giochi. Ci sono tanti bambini che giocano, ciascuno di loro tenta di giocare il proprio gioco, alla fine usciamo con un gioco comune. Io credo che più o meno questo sia quello che io intendo per mestiere. Poi ciascuna di loro ha dimensioni diverse, attitudini diverse, capacità diverse, ma noi ci dobbiamo adattare. E devo dire che, almeno questo come mia esperienza personale, non c'è progettista al mondo che riesca a fare qualsiasi cosa se non ha di fronte a sé un'azienda seria. L'azienda seria è la nostra interfaccia, senza un dialogo costante, continuo, alcune volte anche molto, molto duro, non uscirebbe nessun progetto, nessun progetto potrebbe diventare prodotto e nessun prodotto uscirebbe da quei cancelli lì. Insomma, se mi dovessi guardare attraverso un vetro e mi potessi distaccare leggermente da quello che io faccio quotidianamente, a me piace pensare che in realtà c'è una specie di paso doble, una specie di gioco delle parti. Per poter arrivare a disegnare qualsiasi cosa ho bisogno di ragionare prima in termini di grande complessità, quindi devo accumulare una quantità di elementi molto complessi e poi comincio a sfrondare questa specie di pianta, questa specie di albero, fino quasi ad arrivare a minimizzare la quantità di rami, o alcune volte arrivo a tagliare talmente tanto che rimane solo il tronco. E lì è una specie di cruna del lago, lì ci deve passare il cammello del prodotto o il cammello del processo e bisogna stare attentissimi. Se la cruna è troppo piccina, il cammello, insomma, si fa del male, se la cruna è troppo largo, passa troppo facilmente. Per poter essere vicini a quest'idea devo veramente ragionare con due modi differenti. Da una parte la pesantezza della complessità e dall'altra parte la leggerezza della semplicità. E per arrivare lì bisogna fare molta, molta, molta fatica. È troppo facile avvicinarsi di colpo alla leggerezza o, se preferite, alla semplicità. La linea di confine è vicinissima alla banalità, quindi per quanto mi riguarda, almeno per quanto io faccio di mestiere quotidianamente, mi piace essere molto complicato per poi poter essere un pochino più semplice e per poi diventare un pochino più leggero. Leggero nel senso migliore del termine. Ma in un mondo perfetto e romanticamente impostato, forse il design potrebbe aiutare a migliorare le qualità sociali e di vita delle persone. Io credo che in realtà sia una questione di umanità, di cultura, di generosità, quindi io posso disegnare anche i prodotti più gentili possibili e più umanizzati possibili, con la capacità forse di mettere a dialogo persone differenti. Ma lì comincio e lì mi fermo. Poi il resto è nelle mani di chi utilizzerà questi oggetti, grandi o piccoli che essi siano. Ma io non credo che il design possa cambiare la vita di nessuno, la può cambiare in peggio. Ad esempio io disegno delle cose molto scomode, però me le continuano a comprare, quindi evidentemente poi così scomode non sono. Ma non ho mai pensato che il design potesse cambiare o in meglio o in peggio la vita delle persone. È lì. Se sei capace di essere un essere umano e se sei capace di diventare un essere umano, poi che ci sia una sedia buona o cattiva, non cambia nulla. Guarda, io sono abbastanza convinto, per essere proprio dentro in questa discussione filosofica, sono abbastanza convinto che sia più l'architettura. L'architettura ti può cambiare, in bene o in male. Diciamo che se riesci a vivere in un consenso un pochino più umanizzato, l'architettura può migliorare la qualità della tua vita. Ti faccio un esempio. Se io fossi nato nello zen di Palermo, magari avrei anche potuto tentare di diventare architetto, ma lì mi sarebbe venuto più facile diventare un bandito. In questo caso l'architettura ha influito. Una sedia, un divano, un oggetto che ti circonda è secondo me un pochino più liquido, è un pochino più distante. Guarda, io credo che creatività voglia dire per me semplicemente curiosità. Creatività vuol dire per me la capacità di svegliarsi ogni mattina e di pensare ok, buongiorno, si comincia. La creatività, secondo le regole tradizionali, è un pochino romantica. Sai, ti sveglio con una grande idea. Noi non siamo artisti. Quel modello creativo è dall'altra parte. Noi alla fine siamo dei volgari, per fortuna, lavoratori. Lavoriamo all'interno di un sistema molto preciso, con un do ou des altrettanto preciso. Io disegno degli oggetti che qualcun altro comprerà. Qualcuno me li produce e qualcuno li vende e qualcuno li compra. posso solo cercare di essere il più coerente possibile, posso cercare di disegnarli il meglio possibile, di farli produrre il meglio possibile. Ma la creatività è un lavoro di gruppo, è una discussione quotidiana, è una specie di... di zuppa che continua a bollire e che di tanto in tanto qualcuno assaggia e dice ok, è pronta. E diventa una cosa. Quell'altra creatività, che sia la creatività musicale o che sia una creatività tout court come quella artistica, in tutte le sue possibilità, ha un'altra letteratura, ha un'altra grammatica. E io qui vorrei fermarmi. Il Salone del Mobile intanto è una settimana vitalissima e questo bisogna dirlo. Il Salone del Mobile è un regalo quasi divino. Il Salone del Mobile è un'intera città che si muove in maniera incredibilmente dinamica. Il Salone del Mobile è lo specchio dell'industria italiana, almeno di questo settore. ed è uno specchio preciso. Non è uno specchio con una lente deformante, è uno specchio preciso. Tutto quello che vede accadere qua intorno accade qui, in questo luogo, e cioè Milano, con questa creatura che si chiama Salone del Mobile perché alle spalle di questa creatura ci sono migliaia di aziende, grandi o piccole, che buttano un'energia, buttano una voglia e buttano la capacità di rischiare alcune volte anche la pelle per essere i migliori possibili e lo fanno vedere. Ma guarda, a me piace pensare una cosa molto semplice è assolutamente sotto gli occhi di tutti. noi siamo passati da essere delle scimmie, siamo passati da scimmie a pitecantropo, da pitecantropo a sapiens, a neandertal prima, a sapiens poi, a sapiens sapiens dopo, semplicemente perché abbiamo costantemente contaminato le nostre culture, che fossero culture legate al cibo, legate alla trasmigrazione, legate agli usi dei costumi, ma l'evoluzione degli esseri umani è passata attraverso una miscela di culture. Abbiamo costantemente disintegrato e reintegrato le culture, imparando dall'est, copiando dall'ovest, imparando dal nord e dal sud. Quindi, questo modello culturale integrato e disintegrato è secondo me fondamentale. Quando sento parlare di purezza, intanto mi vengono dei brividi freddi perché qualche anno fa la purezza ha portato a dei danni colossali, costati milioni di sparizioni, se possiamo chiamarle così. Io credo che la bellezza del vivere dell'uomo sia stata proprio la sua capacità di contaminarsi. Se smettiamo di contaminare le culture, io credo che niente possa venire fuori. Io penso semplicemente alla musica, a come l'Africa ha contaminato l'America e di ritorno come l'America abbia contaminato l'Europa e di ritorno come l'Europa abbia ricontaminato l'Africa. senza questo costante giro delle correnti noi saremmo ancora qua quei pifferi. Loro sarebbero molto più bravi di noi con dei grandi tamburi. In America sarebbero ancora lì a tirare le frecce a mani tu. E poi parliamone. Peccato che loro ci abbiano Trump. Beh, intanto l'elemento di partenza è sempre lo stesso. Noi progettiamo la fine degli oggetti più o meno grandi, edifici fino a una caffettiera. Cerchiamo di essere sufficientemente realisti e sufficientemente responsabili nell'immaginare che queste parti più o meno grandi possano avere una vita più o meno lunga. E poi succederà quel che succederà. Io credo che l'onestà all'interno di un progetto è quella lì. Del non pensare di essere tempestivi semplicemente perché devo vendermi. A me piace l'idea di pensare che sono tempestivo perché riesco a fare in tempi molto brevi a condensare un progetto prima un processo poi un progetto poi un oggetto e a quel punto prende la vita. Se riesce a prendere una vita per tanto tempo e se sono molto fortunato alcuni di questi oggetti grandi o piccoli che essi siano possono addirittura diventare delle icone ma lì non sono più io a deciderlo. È una serie di chiamiamoli eventi soprannaturali ma questo serve per darci la spinta quotidianamente per fare cose senza però diventare superficiali. Quindi tutto questo nuovo modello del tutto e subito tanto lo possiamo fare a me sembra sinceramente un pochino troppo e anche abbastanza inutile. Io penso sempre che la comunicazione sia cominciata quando un tizio o più tipi o più esseri umani in una grotta all'esco o da qualche altra parte hanno deciso di far sapere in che maniera vivevano. Passano qualche decina di migliaia di anni e siamo ancora qui. Quando io disegno un oggetto non penso che una volta finito e terminato quella cosa lì sia finito tutto. tutto quanto è legato a diversi strati di comunicazione. Ogni volta a me piace pensare di essere sempre dentro in questa scuola milanese un tempo ragionavamo in termini di capacità di comunicare di fare grafica di pensare alla fotografia di disegnare gli oggetti di lavorare con l'industria insomma un modello di comunicazione abbastanza globale. siamo nel 2018 tra social e altre scioccazze di questo genere stiamo ancora riparlando delle stesse cose ma con degli strumenti diversi. A me piace l'idea di essere capace di lavorare o di provare a lavorare con la tridimensione e nello stesso tempo mi piace l'idea di essere capace di lavorare con la bidimensione quindi delle cose in qualche modo un pochino antiche mi permettono di essere aperte di essere accarezzate di essere annusate e ci vedo dentro questa ricchezza bidimensionale poi c'è un'altra bidimensione che è dentro in questi affari qui insomma si chiamano devices ma siamo sempre lì quindi ritorno sempre dentro in un mondo che più o meno è sempre quello che a me piace la capacità di saltare dentro e fuori dalla B e dalla tridimensione grazie a tutti Grazie a tutti.